oh che bel mazzolini di fiori che vien dalla montagna può darsi che venga dalla montagna può darsi anche che no e quindi in questa incertezza cambiamo lo sfondo e mettiamo qualcosa di ben meno ah questo mi piace un bel messaggio be a good person sii una brava persona clicca mi piace e iscrivete al canale se vuoi essere veramente brava brava buona intanto il generatore di testi mi suggerisce davanti invece ti chiunque come titolo così iniziale noi vogliamo personalizzarlo però e quindi ciò che facciamo è magari randomizzare vedere cosa succede qua durare le il scomparire il gettare finire dipendente soffrire egli le il gli provocare la ammazzare scritto delle le immaginare passare aprire confessare la ricordare dedicare il lo la passare sostenere scendere rompe il ok come non detto come non detto guarda non volevo proprio romperti le scatole anzi chi che sia gli immaginare normalmente si et uno unire vosco la onde uno poiché lì oggi ciò presto gli a meno che lui vitton questo 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 quindi mi vesto con i vestiti del mercato cosa che peraltro faccio effettivamente a meno che lui vitton non decida di regalarmi così in qualche capo come si dice un pochino più prestigioso allora generiamo il testo nella speranza che lui vitton che sicuramente segue testi senza senso mi ascolti allora piano molto azzurro dentro mancare volgere segnare rantacoso lei idem questionabile normalmente bmx il visio il visone affrontare visa il visone affronta visa a tutti i costi a meno che lui vitton a meno che lui vitton gracidante basso tuba variegato licenzioso essendo che le gare davanti touch rugby testato oliva fly ball limpido diventare gli scelpino piangere allora 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 aspetta ci sono delle cose interessanti quindi modifichiamo un po a meno che lui vitton piano molto azzurro dentro mancare volgere segnare rantacoso lei idem questionabile no allora meno che lui vitton che mi è che mi è lui vitton non è inetto non è lugubre non è tramato ecco messo ieri mi è invece mi è legittimo e molto azzurro dentro mancare no allora meno che lui vitton legittimo molto azzurro così decida chiunque mettiamo un verbo per esempio chiunque dedicare chiunque sta per io che ti dedico car lui vitton una canzone volgere segnare rantacoso lei idem questionabile lei lei segnare lei volgere lei vivere lei sedere lei porre questionabile quindi poi imponiamo che qua bisogna avere molta fantasia poniamo una una roba questionabile c'è una domanda normalmente bmx io direi che invece la bmx non è qualcosa alla lui vitton insomma normalmente a c'era inimitabile poteva essere normalmente potrebbe essere che io normalmente mi vesto con della robazza normalmente o solo la triste mi vesto un po' triste il visione però affronta con tenacia la visa e con forza la visi vi c'è benissimo quella mia smagliante visa caro lui vitton ti compro un qualcosa meno che lui vitton non me lo doni tipo adunque nutriente cirio meno che lui vitton ogni tanto vediamo ogni tanto sempre un verbo ogni tanto raggiungere trovare dirigere badare volere mostrare vestire promettere segnare udire capire rivelare ferire iniziare raccogliere concedere ogni tanto conceda un vestito variegato ricenzioso essendo che legare davanti bel corsetto legato davanti touch rugby ma no ma che touch rugby ma sei impazzito che c'entra no touch rugby fondare noi ciò nonostante infatti così fly bolle limpido le 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 morbido le morbido che le morbido che vuol dire niente ovviamente le morbido prendere gli gli posare piangere no riposare allora testo veramente veramente costruito malissimo giunto una strofa perché secondo me se una cortina di posare allora meno che lui vitton a meno che lui vitton scegliamo una base altrettanto scarcagnata questa è super potrebbe essere sentiamo un po vediamo se cambia sembra non esattamente guardiamo un po questa canzone dedicatissima lui vitton a meno che lui vitton a meno che lui vitton a meno che lui vitton oh oh legittimo molto azzurro chiunque dedicare volgere segnare rantacoso lei porre questionabile normalmente triste il bisogna affrontare previso a meno che lui vitton oh a meno che lui vitton oh a meno che lui vitton oh eh a meno che lui vitton oh oh Variegato licenzioso, essendo che le gare davanti Noi c'è nonostante i fatti, è morbido prendere E riposare allora, a meno che lo evitò A meno che lo evitò, a meno che lo evitò A meno che lo evitò, a meno che lo evitò A meno che lo evitò A meno che lo evitò A meno che Louis Vuitton A meno che, a meno che, a meno che lui Vuitton A meno che lui Vuitton A meno che lui Vuitton Finirà?